Qui siamo nel Regno dei Perticari, che è una antica famiglia nobiliare pesarese, che aveva in questi terreni intorno a Pesaro, quindi nella zona di Sant'Angelo di Lizzola, tutta una serie di proprietà, tra cui questa chiesa, costruì questa chiesa nel 1684, insieme ad un ospitale per i poveri pellegrini, che nacque in maniera accanto a questa chiesa e che attualmente non è più presente, perché poi il tempo ovviamente lo ha distrutto. Nel 1684 in realtà esistevano i lapi, che poi si imparentano con i Perticari, a cui poi successivamente, dai Perticari in poi, segue tutta la stirpe dei Perticari ancora presente, con mio suocero, le figlie presenti e viventi attualmente. L'unicum di questa chiesa importante è che nel momento in cui i lapi la costruirono, affidarono a questo pittore, che era un pittore che nasce e muore a Pesaro, Giovanni Battista Venanzi, e che in tarda età, dopo un lungo periodo di permanenza presso la corte dei Principi Farnese di Palma, dove era il primo pittore di corte, rientra a Pesaro e tutta la zona, tutta questa chiesa e l'ospitale, vengono istoriati da questo pittore stesso. Per cui in questo momento, restaurate completamente, esistono qua all'interno 32 opere di quest'autore ed ecco da qui che è nata l'idea di fare questo museo monotematico su Giovanni Battista Venanzi, che quindi è un pittore del 600, quindi tardo barocchio, quindi per questo motivo devo dire che è un pittore che lascia molti quadri nella zona di Parma e in altre zone italiane. Nel momento in cui mio suocero recepisce tutti questi beni, da sua madre, mio suocero il conte Giancarlo Cacceguera Perticari, allora decide appunto di mettere questo bene, una chiesa con tutti questi quadri, che in quel momento ovviamente non erano restaurati così come la chiesa ha dovuto subire un notevole restauro, rifacimento eccetera, però di metterla a disposizione successivamente della popolazione o comunque della parte esterna. Da lì poi recentemente è venuto un incontro molto interessante con il senatore Palmirucchielli, sindaco dell'area, da cui è nata l'idea proprio di costruire e di un museo, di generare un museo qua all'interno, museo monotematico, appunto Giovanni Venanzi e da qui nacque l'idea stessa. Sì, il mese di febbraio abbiamo cercato di riaprire i nostri musei come a Ponte Vecchio, il museo della civiltà contadina, qui a Sant'Angelo in questo importante luogo, la chiesa di Sant'Egidio, un luogo importante appunto storico, culturale e artistico. Il museo del Venanzi viene, come dicevi, assaporato inizialmente, insomma, si sarà modo e tempo di inaugurarlo in modo più festoso con la cittadinanza, ma intanto dare la possibilità a questi due venerdì, su appuntamento di visitare i nuovi quadri ristrutturati è una cosa importante. Sono 32 opere di un pittore nato a Pesaro del 600 e questo luogo per l'amministrazione riveste una sua importanza. Incomodato d'uso si è permesso di utilizzarlo anche in passato con eventi culturali, eventi musicali, tutti ben riusciti. L'inaugurazione di questo museo permetterà in futuro di visitarla con maggior frequenza. Grazie.